Capitan America, Spider-Man, Iron Man e Dulca sono arrivati dal cielo per fare una visita sorpresa ai piccoli pazienti del San Donato di Arezzo. Questo progetto nasce da un'idea, da un unico obiettivo che è quello di far passare una giornata di spenseratezza ai bambini che tutti i giorni sono dentro gli ospedali. È una giornata per noi molto bella perché ci permette di dare una mano a questi bambini attraverso un sorriso, un saluto e affrontare una giornata di spenseratezza. Perché poi realmente i veri supereroi sono loro, non noi. I supereroi preferiti dai bambini, dopo essere scesi dal tetto dell'ospedale, hanno fatto visita ai piccoli ricoverati per regalare così una mattinata di spenseratezza e divertimento. Chi c'è qua? Buongiorno. Una giornata veramente molto bella perché è chiaro che i bambini che sono ricoverati vivono un momento di particolare difficoltà e di fragilità. Quindi credo che abbiamo donato loro un sorriso, un momento di spenseratezza, una favola che è poi quella che i bambini hanno diritto di continuare a vivere ancora per tanti anni nella loro vita.